Amiche e amici di Pachino Cam News, come sempre benvenuti sui nostri canali, ci troviamo a Pachino in via Calogero, dove questa notte, sono circa le ore 4, quando un incendio ha avvolto un Alfa Romeo 156 parcheggiata qui nella zona nord della città. L'incendio è stato molto violento, addirittura anche un effetto punto che era accanto ha preso fuoco. A questo si aggiungono i danni provocati nelle abitazioni vicine e quindi ritornano le nottate di fuoco a Pachino. Le indagini delle forze dell'ordine sono già avviate per risalire agli autori e comunque per delineare cosa è accaduto in questa nottata a Pachino. Sul posto sono giunte due pattuglie dei vigili del fuoco sia di Pachino che di Noto, ma i tempi tecnici per il loro intervento come sempre sono un po' lunghi, specialmente per quanto riguarda il team di Noto che per arrivare a Pachino deve percorrere circa 30 km. Quindi vi lascio con le immagini che state vedendo sui danni provocati da questo terribile incendio che ha colpito la nottata qui a Pachino.